è fatta non uccideranno più salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo tornati su Horizon Zero Dawn dopo aver ottenuto la nostra vendetta adesso ci prepariamo ad affrontare un nuovo viaggio quello di andare a parlare con Marea alla corona della madre io come sempre adesso vi lascio il gameplay e ci sentiremo più avanti a Grazie a tutti. Una piantina utile. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Calma, calma. 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 No, no, no. 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 No, no.